Alberto Colombo, benvenuto a Pescara. Abbiamo già ascoltato alcune sue prime dichiarazioni, l'importanza di questa tappa per la sua carriera. Sì, è fondamentale questo. Per la mia crescita personale cercavo una sfida del genere dove mi portasse fuori da una zona di comfort che avevo creato con delle problematiche diverse ma che secondo me arricchiranno il mio bagaglio nella gestione di queste pressioni che chiaramente una piazza come Pescara darà. Ma sono delle responsabilità che vado e voglio cercare e accettare per poi misurarmi e come dicevo cercare di crescere anche nelle varie gestioni di queste pressioni. Fare bene a Pescara potrebbe proiettarmi ad altri livelli come allenatore. Questo è quello che si vuole perché ognuno di noi ha delle ambizioni. Però lo faccio con molta umiltà partendo da un concetto che mi piacerebbe avere una squadra umile ma con le giuste ambizioni perché poi credo che nella vita così come nella professione bisogna essere quelli che si è. Io quindi non farò mai delle dichiarazioni che vadano ad essere eccessive. Credo che lavorare sotto traccia e lavorare seriamente sia quello che mi ha sempre contraddistinto sperando poi che i risultati mi diano il supporto e il sostegno giusto. Da quello che abbiamo capito un Pescara che sarà 4-3 fantasia almeno come base di partenza per allestimento dell'organico? Diciamo che io sono uno abituato a dare una squadra organizzata che sappia comunque nelle fasi di gioco che tutti siano in grado di capire quello che ognuno deve fare. Quando si dice fantasia non è proprio il termine giusto perché sembra che poi davanti ognuno possa fare quello che vuole. L'idea è quella di avere in rosa una batteria di attaccanti che siano con caratteristiche diverse da adeguare eventualmente a quella che è la mia visione. Se nella rosa del reparto offensivo ci fosse un trequartista magari si può pensare a volte un trequartista con due punte a volte una punta con due trequartisti oppure una volta a volte una punta centrale con due esterni larghi in massima ampiezza. Abbiamo visto che lei è molto duttile da questo punto di vista, ha fatto una stagione intera mi pare anche col 3-5-2. Sì, diciamo che sono passato all'inizio della mia carriera ad essere un integralista del 4-3-3 perché probabilmente mancando di esperienza mi affidavo a quelle che erano le certezze. Ora sono nell'evoluzione, ho pensato che il sistema di gioco è l'aspetto secondario ma credo che bisogna cercare di mettere i giocatori nelle posizioni o meglio mettere quei giocatori che ti possono far fare la differenza o dare qualcosa in più nelle posizioni più congeniali. Quindi il sistema di gioco è influenzato poi da quello che sono le caratteristiche di alcuni giocatori.